Hanno violato la normativa sul rispetto dei tempi di guida e di riposo che riguardano gli autisti dei mezzi pesanti. In particolare sono state levate 5 sanzioni per lo sforamento delle ore di lavoro consentite. Così si è conclusa un'operazione degli agenti della squadra motociclisti della Polizia Municipale Aretina, che ha effettuato controlli sull'autotrasporto di merci e persone. I controlli hanno infatti riguardato 12 veicoli, due dei quali di nazionalità straniera. Attraverso l'analisi dei dati del cronotachigrafo, una componente obbligatoria della strumentazione di bordo dei veicoli commerciali superiori alle 3 tonnellate e mezzo, come autocarri, autotreni, autoarticolati ed autobus, sono emerse quindi varie violazioni. Ulteriori verifiche hanno poi permesso di rilevare un autocarro dotato di un dispositivo cronotachigrafo analogico di vecchia generazione e sprovvisto dei sigilli che ne attestano l'integrità. In questo caso è scattata una sanzione di oltre 1.700 euro e l'immediato ritiro della patente di guida del conducente per la successiva sospensione tra i 15 giorni e i 3 mesi. Grazie a tutti.